Bentornati a tutti in questo nuovo video, oggi siamo qua a Chignolo come promesso Siamo qua io, Gian Pietro, altri ragazzi e è appena arrivato anche Bob E abbiamo già fatto un po' di giri, quindi un po' di twin Stiamo cercando di fare più giri assieme possibile per divertirci entrambi E dopo un po' di sessione, dopo le prime sessioni, dato che sono le 10 di mattina ancora Sono stati i primi problemini appunto Mi sa che si è rotto qualcosa da qualche parte E adesso vi faccio vedere che cosa è successo Allora, andando sotto l'auto, più o meno all'altezza del albero di trasmissione, ovvero qui Ho preso un avvalamento forte, un cordolo, e questa parattia qua è stata spinta su e si è agganciata così all'albero E faceva un rumore davvero terribile Ora la rimettiamo in parte Tutto questo perché si è rotta la vite lì, vedete La rimettiamo in parte Adesso l'albero può girare liberamente Senza toccare nulla E usciamo da qua sotto Buona, quindi adesso siamo pronti per rientrare C'è qua appunto Gian E questa è la sua E36 Questo è un 325 genuino Un vero 325 La mamma l'ha fatto L'ho sistemata meglio negli interni Ho un po' di cosine Abbiamo saldato il ponte In filo da mano israelico LSV autobloccante con la cronica da 315 Motore originale Passetto Tutta pinza Tutta pinza dietro Poi il bordo non mi ricordo più Però viene o male la macchina Di solita cosa insomma Esatto esatto Una svuotatina dietro Sì sì Questo perdo E basta 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 Senza tanti fronzoli No 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 tranquilla Dai Ci vado in giro anche in strada Quindi Faccio i semafori Dai Allora andiamo in pista allora Dai Ora, questa coppia lì come è andata La coppia lì come è andata La coppia lì come è andata La coppia lì come è andata Vado La coppia lì come è andata 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 bello, bella giornata, tutto bene, sono divertiti, tutto caldo a parte, si ma neanche troppo dai, ho fatto di peggio, io ho dovuto fare questa cosa, questa è un po' troppo surriscaldata di acqua, difatti abbiamo alzato l'intercooler, così il radiatore d'acqua è tutto scoperto, però ho sofferto un po' di acqua, la mia è tutta originale è andata bene, quella di Jumpy è tutto perfetto per adesso, abbiamo scoppiato un po' di gomme, e anche io un po', ho tutti e due i fianchi fatti, uno di qua lo dirà, eh toccarlo, eh vabbè, se gli darò una pulitina magari a far venirvi un po' di nero, buona ragazzi se questo video vi è piaciuto lasciate un like qua sotto, commentate cosa ne pensate di queste giornate qua, di Bob, di Gian Pietro, di una pelata lucida che sterlucica, mi fa un caldo, iscrivetevi al canale, ci vediamo al prossimo video, ciao a tutti! Tutto dentro è rimasto, è tutto a posto, fagli vedere il paul, ecco perché, e sul fumo dai bordi, voilà!